Allora, sì, io in realtà sono un giornalista, faccio il giornalista da tre anni, vado anche all'università, facoltà di sociologia, beh, diciamo che non si può vivere di solo gloria, il mondo del giornalismo è un bel mondo, però diciamo ci vogliono le basi, il talento, anche la fortuna giusta per emergere. Mi è capitata questa opportunità, anche grazie ai miei parenti, di rilevare questa attività di cartoleria e devo dire che l'ho colta al volo, perché comunque per me è stata un'opportunità importante e spero che alla fine dia i suoi frutti, sono molto fiducioso di questa nuova avventura, ringrazio le persone che mi sono state vicine, mio padre soprattutto, anche mia madre che mi hanno permesso di aprire questa nuova attività e niente, va bene così, spero vada benissimo e magari in futuro si ingrandisca.